In Toscana sono 444 i nuovi casi di coronavirus, ma si dimezza la percentuale dei positivi. In 24 ore si è passati dal 5,9% al 2,6%. Aumentano, anche se di poco, più 6 i ricoveri. Dati che fanno ben sperare. Anche dall'isola del Giglio vengono notizie confortanti. Infatti l'isola è tornata a zero contagi. La Toscana in questo momento ha dati buoni, ha detto il presidente della regione Eugenio Gianni. Siamo in zona arancione, è vero, ma con dei dati molto gestibili, con una capacità di controllo della situazione. Abbiamo superato alla metà di febbraio, proprio i giorni in cui l'anno scorso conoscemmo il coronavirus e vivemmo momenti di lockdown totale fino al caldo di fine aprile e inizio maggio, che ci portò in una nuova fase. Quindi, lo dico a tutti, soprattutto ai giovani, si tratta di resistere questi due mesi e mezzo o tre. E cerchiamo di essere coscienziosi, di tenere alta la guardia, perché tra due mesi e mezzo o tre il caldo ci porterà via il virus e continueremo anche in estate la campagna di vaccinazione. Su fronte ai vaccini, intanto, i sindaci chiedono al governo di essere coinvolti maggiormente. Il caso di Israele deve essere un po' un esempio per tutti, anche se è un paese con dimensioni decisamente inferiori ai grandi paesi europei come l'Italia. Ma l'impegno che vedrà tutto il paese con le prossime fasi di vaccinazione di massa non può che avere al centro l'attività dei comuni e dei sindaci. Quindi io credo che più il governo e le regioni coinvolgeranno i sindaci, soprattutto nelle grandi città, in questa opera di vaccinazione di massa, più questa vaccinazione potrà avere, diciamo, successo.